Alla prossima Noi, io ho bisogno di vedere tutte le mie, come questa cosa? Noi, io ho bisogno di vedere tutte le mie che stanno finendo. Sì, noi. Salaam alaikum, io ho bisogno di vedere tutti le mie? Io ho bisogno di vedere, non mi ringerio di vedere tutti le mie? Non mi ringerio di vedere tutti i miei. Umar, hai hai hai? Hai hai? Hai hai hai? Hai hai hai? Hai hai hai? Eh, io non ho visto un bianco così. Grazie a tutti.